Un ringraziamento ad Arnos, al segretario della presidenza dell'Italia. La cerimonia che si è tenuta in comune tra una delegazione dell'associazione Argos Forze di Polizia, l'amministrazione comunale e la presidente della carnevalesca per suggellare il suo dadizio già avvenuto lo scorso anno dopo anni di collaborazioni reciproche a distanza tra il Carnevale di Fano e una grassa domenica festa del Carnevale delle Forze di Polizia. Il Carnevale di Fano è un carnevale molto sicuro, un carnevale che è molto attento alle regole, alla sicurezza e quindi coniuga con il nostro modo di fare. Ecco perché questo gemellaggio così importante oggi lo andiamo a rafforzare proprio, quindi saremo qui con il sindaco e andremo a legarci ancora di più. Quindi Fano e Roma legati nelle attività aggregative e ricreative. Scambio di doni e novità in sala della concoria tra l'associazione che si occupa di promozione sociale e culturale per tutte le forze di polizia in tema di geopolitica e sicurezza attraverso un osservatorio di convegni, seminari ed eventi come il Carnevale di Fano per l'appunto. A sindaco, assessore e presidente carnevalesca è stato consegnato da parte dell'associazione l'attestato di ambasciatori di pace con una medaglia di accompagnamento che a loro volto poi alla delegazione hanno fatto omaggio dell'ultimo volume della copia Clappis Lamanna con la storia dell'ente organizzatore del Carnevale più antico d'Italia. Uniamo il divertimento, il Carnevale a dei valori, a quelli della sicurezza, ai valori di chi serve lo Stato attraverso il proprio servizio. È un connubio molto bello, ci divertiamo ma nello stesso tempo lanciamo messaggi positivi. Io sono veramente commossa perché questi amici di Argos Forza e di Polizia si adoperano da anni per questo gemellaggio, ovviamente io con loro ritengo che sia una grande amicizia che mano a mano negli anni si è consolidata. Ciliegine sulla torta, nella mattinata poi la presentazione di una polca appositamente composta dal maestro Danilo Mazzilli dal titolo Il Carnevale di Fano. Io mi sono ispirato a dei pupi che danzavano, ho immaginato Arlecchino e Culcinella che danzavano, ho detto non sarò Paganini che ha composto il Carnevale di Venezia però ci provo. Mi è venuto in mente questi pupi che saltavano a tempo di due quarti, è uscito fuori una polca e ha partito il Carnevale di Fano.